Anche il piccolo comune di Canalo, che conta 860 abitanti appena, è finito sotto la lente della prefettura, secondo cui è probabile l'influenza dell'andrangheta nelle disposizioni amministrative. Su delega dell'eministro dell'interno, infatti il prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, ha ordinato un accesso ispettivo antimafia presso il comune del centro montano della Locride al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti per verificare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso all'interno degli uffici comunali. La commissione d'indagine si è insediata ieri mattina ed è composta dal vice prefetto aggiunto Eugenia Salvo, da Eugenio Barillà, funzionario amministrativo, e da Pietro Maldonato, funzionario economico-finanziario, tutti in servizio presso la prefettura di Reggio Calabria. L'accesso ispettivo, secondo quanto previsto, dovrà essere perfezionato entro tre mesi prorogabili di ulteriori tre, qualora necessario, di ulteriori verifiche. A Canalo, il sindaco in carica è una donna, Rossita Femia, che ha ottenuto il secondo mandato nel 2014, arrivando al 58,58% dei voti, superando la rivale Raffaella Cortale, che si è attestata al 41,41%. La Femia era stata eletta a 29 anni per la prima volta sindaco di Canalo con la lista Unione e progresso il 7 giugno del 2009, ottenendo ben 377 preferenze contro le 205 di Francesco Franconeri della lista Democrazia e lavoro per la rinascita di Canalo. Ora la sua amministrazione è sotto controllo perché dalla prefettura è arrivato l'ordine di ispezionare tutti gli atti e di controllare le disposizioni e le educazioni di gara dal momento che Rossita Femia e al secondo mandato elettivo è molto probabile che la verifica riguarderà anche la prima consigliatura. Peraltro, durante i primi cinque anni di amministrazione, è stato arrestato un assessore del Comune nell'ambito di un'operazione antimafia e a ciò si aggiunge che a Canalo sarebbe attiva una cosca molto influente e dedita alle attività criminali. Con l'avvio dell'ispezione Canalo è il terzo Comune oggetto di controllo amministrativo dello Stato. Attualmente, sotto regime commissariale nella Locride, ci sono Bovalino, dove le elezioni, salvo diverse disposizioni ministeriali, sono previste l'anno prossimo dopo che i 18 mesi di gestione straordinaria sono stati prorogati di altri sei e a Africo, dove nel prossimo messe di novembre si dovrebbe tornare agli organi eletti dal popolo. Di certo è che il controllo minuzioso che sarà compiuto in questi tre mesi negli uffici comunali di Canalo, prorogabili per altri sei, sarà decisivo per chiudere le indagini e dissipare o confermare i dubbi di inserimenti della criminalità all'interno del Comune.